green pass rafforzato ecco le regole in vigore da oggi quarantene e obbighi a scuola aumentano assenze da banchi e bus rilascio di green pass falsi cinque arresti ad ancona la prima neve affascina la costa e anima la montagna buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news riparte una nuova settimana con la nostra informazione serale il nostro tg che in questa edizione di lunedì 10 gennaio dedichiamo al significato di questa data che segna un altro step di nuove regole sempre più limitanti per chi non è vaccinato da oggi infatti serve il green pass rafforzato in tante attività quotidiane dove finora era previsto solo il green pass base ovvero quello con il quale era sufficiente un semplice tampone negativo e non il vaccino green pass rafforzato che da oggi serve per andare in albergo per salire su un autobus o su un treno per andare in palestra o in piscina vediamo questo servizio di doardo razzi che ci aiuta a capire le novità in vigore da oggi e le prossime in arrivo da oggi 10 gennaio sono entrate ufficialmente in vigore in tutta italia le nuove regole varate dal governo draghi arrivate per convincere chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione definendo chiaramente le attività che possono essere svolte da un cittadino munito di green pass o di super green pass un'ulteriore stretta è infatti scattata per quanto riguarda i trasporti pubblici visto che per salire in autobus o in metro sul treno o in aereo da ora sarà possibile farlo solamente con il green pass rafforzato è stato derogato di un mese invece l'obbligo di super green pass per tutti gli studenti che percorrono il tratto casa scuola con il classico trasporto scolastico mentre chi salirà sui bus di linea o su qualsiasi altro mezzo pubblico sarà necessario il super pass lanci nelle ultime ore ha infatti dato conferma che per gli alunni basterà il green pass base quindi prima dose guarigione o tampone con esito negativo da oggi sarà necessario disporre del super green pass anche per fare sport di squadra quindi allenamento e partita accedere a palestre piscine musei mostre fiere congressi centri benessere terme sale giochi centri scommesse casinò il ciclo vaccinale completo sarà obbligatorio anche per entrare in alberghi e strutture ricettive feste di matrimonio battesimi servizi di ristorazione all'aperto e impianti sciistici ma non è finita qui perché altre date indicano ulteriori ristringimenti dal 20 gennaio infatti per poter mettere piede dal parrucchiere dal barbiere nei centri estetici sarà possibile solamente con il certificato verde base mentre dal primo febbraio dovranno mostrare il green pass tutti i clienti di pubblici uffici servizi postali bancari e finanziari e attività commerciali per supermercati e farmacie invece non è necessario averlo ciò che ha suscitato più clamore è invece il provvedimento preso dal governo draghi in vigore dall 8 gennaio e che avrà validità dal prossimo 15 febbraio l'ultimo decreto legge anti covid prevede infatti l'obbligo vaccinale dai 50 anni in su vietando a coloro sprovvisti di super green pass l'accesso ai luoghi di lavoro la trasgressione di questa nuova regola comporta una sanzione di 100 euro che arriva conseguentemente se dall 1 febbraio in avanti gli over 50 non hanno completato il ciclo vaccinale primario e se non hanno fatto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi terzo giorno di scuola a pesaro questa mattina e aumentano progressivamente le assenze sia dai banchi a causa dei contagi delle quarantiene sia dagli autobus a causa dell'entrata in vigore del green pass rafforzato che esclude gli studenti non vaccinati dai mezzi di trasporto o perlomeno da quelli di linea mattinate complicate per le scuole pesarese che al terzo giorno di ripresa dell'attività didattica vedono progressivamente aumentare il numero di assenze per casi di contagio e per quarantene dovute a contatti diretti compositivi emblematico il caso del liceo marconi istituto superiore ad alta demografia studentesca nel quale oggi si contavano 500 defezioni all'appello tradotto uno studente su tre è rimasto a casa e gli è stata consentita la didattica a distanza assenze dai banchi assenze anche dagli autobus effetto domino delle entrate in vigore da oggi del green pass rafforzato per salire sui mezzi pubblici non su tutti però sul trasporto scolastico dedicato è stata infatti applicata la deroga di entrata in vigore del super green pass al prossimo 10 febbraio non così invece sugli autobus di linea che effettuano servizio di trasporto mattutino verso le scuole lì serve il green pass rafforzato e come dal 6 dicembre si è cominciato a fare i controlli a campione sul green pass base da oggi sono partiti quelli sulla nuova certificazione ci sono stati problemi abbiamo impiegato come già precedentemente facevamo i nostri verificatori ovvero i controlli i controllori che fanno normalmente controllo a bordo degli autobus li abbiamo impiegati a terra per i controlli a campione quindi andiamo a chiedere il possesso del green pass rafforzato a chi vuole salire a bordo dell'autobus e nel caso l'utente non abbia il green pass rafforzato non possiamo farlo entrare a bordo dei nostri mezzi come appunto richiede ci impone il decrito questi controlli si svolgono anche grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine del territorio abbiamo registrato ovviamente un calo dell'utenza perché chi non è in possesso del green pass rafforzato ha responsabilmente scelto di non utilizzare i mezzi pubblici per recarsi a scuola o nei luoghi di lavoro cosa che sicuramente è apprezzabile perché altrimenti ci pone come azienda e come gestore di un servizio importante come quello dei trasporti in una situazione di grave disagio e in imbarazzo perché ovviamente noi puntiamo sempre ad offrire il servizio e se non possiamo ci troviamo nelle condizioni di dover impedire a qualcuno di utilizzare i nostri mezzi è sempre una cosa piuttosto gravosa ma questo ci impone, ci impongono le nuove disposizioni del governo e questo noi dobbiamo applicare alla lettera per il bene e la tranquillità di tutti soprattutto in questo periodo Una clamorosa indagine sul rilascio di green pass falsi ha portato oggi all'arresto di un infermiere di 50 anni e di altre 4 persone finite ai domiciliari Il blitz della squadra mobile della polizia questa mattina alle 8 al centro vaccinale Paolinelli di Ancona Lab dove l'infermiere arrestato avrebbe simulato l'inoculazione del vaccino per rilasciare green pass senza somministrare il siero A provarlo ci sarebbero intercettazioni e riprese video effettuate all'interno del centro vaccinale secondo le quali le dosi di vaccino invece di essere iniettate finivano nel cestino e all'interno del contenitore dei rifiuti sanitari Le persone finite ai domiciliari sarebbero invece degli intermediari esterni al mondo sanitario ma che grazie ai rispettivi ambiti di conoscenze indicavano a chi richiedeva il green pass senza vaccino la disponibilità a pagamento di questo infermiere 45 le persone fermate per aver ricevuto questi green pass falsi ai quali è stato disposto l'obbligo di dimora con presentazione al cospetto dell'autorità giudiziaria Dopo il maxi screening del giorno dell'epifania nel quale sono stati effettuati tamponi gratuiti a studenti di scuole elementari e medie che si apprestavano a tornare in classe lo scorso venerdì la regione Marche ha annunciato che organizzerà un analogo screening volontario per gli studenti delle superiori quelli compresi fra i 14 e i 18 anni il prossimo weekend Intanto invece da domani le Marche cominceranno a somministrare la terza dose di vaccino la cosiddetta dose booster anche ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi Sono partite le prenotazioni proprio nella giornata di oggi E come ogni lunedì susseguente al giorno festivo calano i tamponi processati nelle Marche che oggi registrano 879 nuovi contagi di cui 107 in provincia di Pesaro Urbino con una percentuale di tamponi positivi del 20,9% In pratica più di un tampone su 5 evidenzia Covid-19 Calano i ricoveri che rispetto a ieri passano da 309 a 304 ma aumentano le terapie intensive che passano da 54 a 57 Oggi non si sono registrati i decessi di marchigiani contagiati dal virus Le immagini che vi mostriamo ora sono state girate sabato in occasione dell'ultimo saluto ad Alex Eusepi 38enne vigile del fuoco pesarese persona molto nota in città attiva nel PD Pesaro nelle iniziative del quartiere Villa Fastigi-Villa Ciccolini e impegnato con l'associazione culturale periferica Movimenti e associazioni presenti in gran numero sabato alla Casa del Popolo di Villa Fastigi per il commovente arrivo del feretro scortato dai mezzi dei vigili del fuoco presenti in circa 300 unità con delegazioni anche dagli altri comandi provinciali Ricordiamo che Alex è morto la notte fra il 3 e il 4 gennaio scorso per un sospetto aneurisma cerebrale che l'ha fatto rovinare a terra mentre in scooter attraversava il centralissimo piazzale 1 maggio in direzione Corso 11 settembre Ci lasciamo alle spalle una domenica in cui per la prima volta in questo inverno è caduta la neve anche sulla costa Ringraziamo a tal proposito i tanti spettatori che ci hanno inviato belle immagini di strade e colline del nostro territorio innevato che vi riproponiamo in questo servizio L'inverno ha presentato il suo volto bianco anche alla costa Ieri è arrivata la perturbazione annunciata con la neve che per la prima volta della stagione si è depositata anche su Pesaro e Fano oltre ad imbiancare le aree interne di una coltre di 10 cm Cifre superate sulle cime di Nerone, Catria e Carpegna Tante le immagini e i video che voi telespettatori di Rossini TV avete inviato alla redazione per documentare il fascino della coltre bianca in una domenica in cui l'ondata di maltempo ha circoscritto le criticità a pochi disagi di auto finite fuori strada con i vigili del fuoco chiamati a 17 interventi nella provincia di Pesaro Urbino La squadra di Cagli è ad esempio entrata in azione nel territorio di Piobbico, nei pressi del Monte Nerone per soccorrere e far ripartire autobloccate dall'intensa nevicata che avevano congestionato un incolonamento di macchine A Pesaro ci si è risvegliati con un lunedì di rialzo delle temperature e pioggia notturna che ha cancellato gran parte delle tracce della neve Più problematica è la situazione all'interno dove oggi non hanno riaperto le scuole di Urbino Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio e San Lorenzo in campo per altrettante ordinanze comunali Ora sulla costa si attende una settimana di ridotte precipitazioni e temperature stazionare fra gli 8 e i 2 gradi Annunciata intanto per giovedì la riapertura degli impianti di risalita del Monte Nerone già aperti da giorni quelli dell'eremo Monte Carpegna Sul Catria invece è rimasto chiuso impianto e rifugio Cotaline per diversi casi di contagio al Covid nello staff Neve che ha imbiancato la costa Neve che invece è caduta abbondante nelle aree montane che a dispetto delle limitazioni da pandemia vivono un importante momento di ripartenza per il settore del turismo invernale La prima nevicata abbondante è coincisa con le prime aperture degli impianti di risalita nelle aree montane della provincia di Pesero Urbino Montagne che nel weekend sono tornate ad ospitare centinaia di visitatori per godere di paesaggi innevati e per rimettere gli sci ai piedi attività che negli ultimi due anni erano state quasi azzerate Sicuramente la pandemia soprattutto l'anno scorso per quanto riguarda le aperture degli impianti purtroppo non l'ha permessa e l'anno precedente invece è stata colpa delle poche precipitazioni quindi insomma veniamo da due anni in cui effettivamente l'economia legata al discorso neve è risultata pari a zero quindi è chiaro che se quest'anno si riuscisse in qualche maniera a dare un po' di ossigeno a quelle attività che vivono di questo tipo di sport sicuramente sarebbe positivo per tutti e anche perché la ricaduta chiaramente non è solamente per chi gestisce gli impianti ma l'indotto poi va su ristoranti, alberghi, bar eccetera quindi è chiaro che è importante, molto importante e questa prima neve lascia ben presagire anche se purtroppo l'impianto di Passo Cantoniera non è stato aperto questo weekend quello invece dell'ermo di Monte Carpegna è stato aperto ed è stato anche fruito da tanti visitatori, da tanti sciatori Impianti attive Carpegna mentre sul Nerone lo saranno dal 13 gennaio e lo si farà con Green Pass rafforzato obbligatorio per accedervi come impone la nuova norma in vigore da oggi Restrizione a parte si tratta di un'altra importante boccata d'ossigeno per attività ripartite come il rifugio Chalet Principe Corsini sul Monte Nerone L'affluenza di gente è stata molto molto importante la neve caduta sicuramente aiuta molto a portare la gente dalla costa però anche senza neve diciamo che magari un po' il rifugio ma un po' anche questo fatto del coronavirus ha fatto riscoprire a molti la montagna dopo l'inaugurazione che abbiamo fatto a giugno adesso arriverà il primo inverno con il nuovo rifugio Chalet Principe Corsini siamo pronti per partire questa settimana molto probabilmente apriremo gli impianti e di conseguenza anche il rifugio e restando in montagna questa mattina c'è stata anche una scossa di terremoto con epicentro a pochi chilometri dal borgo di Frontone la scossa di magnitudo 3 è avvenuta alle 8.34 a 38 chilometri di profondità ed è stata distintamente avvertita nei comuni limitrofi ricordiamo che il primo gennaio la terra aveva tremato anche nella vicina a Pecchio con magnitudo 2.4 la regione Marche ha convocato l'unità di crisi per mercoledì con un tavolo di confronto nel quale affrontare il tema della peste suina africana dopo i primi casi di questa malattia virale rilevati negli ultimi giorni in Piemonte e in Liguria si tratta di una malattia altamente contagiosa che colpisce esclusivamente suini e cinghiali e seppur non trasmissibile all'uomo può avere pesanti ripercussioni economiche sul settore zootecnico e sull'industria agroalimentare la regione dunque valuta eventuali provvedimenti specifici di monitoraggio Marche e Multiservizi informa che nei prossimi giorni effettuerà lavori di pulizia periodica del serbatoio di acqua potabile delle comune di Pesaro l'intervento comporterà una sospensione dell'erogazione dell'acqua o cali di pressione giovedì 13 gennaio dalle ore 8.30 alle 14 nelle vie che vi mostriamo in grafica ovvero le vie Adda, Po, Sangro, Ticino, Panaro, Sele, Scrivia, Arno, Dora e Adige e ci spostiamo a Fano dove oggi è stata inaugurata la nuova sede della scuola dell'infanzia statale Seneca di Cucurano collocata nella struttura di via della scuola che fino allo scorso settembre ospitava parti della scuola primaria di Cucurano l'immobile è stato al centro di un significativo intervento di ristrutturazione con un intervento di 200.000 euro da parte delle comune di Fano e parliamo anche di spettacoli teatrali dopo il successo di una pezza di Lundini e il tutto esaurito nelle 24 tappe del tour estivo Valerio Lundini arriva il 12 gennaio al teatro sperimentale di Pesaro con lo show Il Mansplaining spiegato a mia figlia su iniziativa di Comune e di Amat uno spettacolo che lo ricordiamo comincerà mercoledì alle ore 21 imprenditori balneari in stato di allerta a causa di una sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe far scadere tutte le concessioni a fine 2023 Sabato a Fano si è tenuto infatti un incontro fra diversi rappresentanti di Forza Italia e operatori del settore con l'intento di individuare una strategia comune per preservare lavoro e risorse investite Nell'occasione era presente anche il senatore Maurizio Gasparri come riportato nel servizio di Simone Celli Continuità e un secco no a ogni norma vessatoria è questa la linea confermata da Forza Italia in merito al futuro delle concessioni balneari Sabato scorso la tappa fanese del tour marchigiano alla presenza del senatore Maurizio Gasparri per incontrare gli imprenditori del settore preoccupati per via di una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato per fine 2023 la scadenza delle attuali concessioni e che costringerà i comuni ad applicare la ormai arcinota direttiva Bolkestein Quest'ultima obbligherà a rimettere a gara tutte le concessioni in essere a discapito di chi, a detta di Forza Italia per anni ha investito risorse per riqualificare gli impianti e ampliare la gamma dei servizi Abbiamo organizzato questo incontro questa mattina a Fano con il senatore Gasparri per incontrare tutti gli operatori balneari e i concessionari di spiaggia di questo territorio della provincia di Pesaro e non solo sulle tematiche legate alla Bolkestein questa situazione che ormai da anni si protrae di incertezza per quel che riguarda le concessioni dei magnali eccetera stamattina il senatore che da sempre segue questa situazione dirà agli operatori balneari un po' gli ultimi sviluppi e come si potrà prevedere in prospettiva diciamo lo sviluppo di questa tematica 160 le imprese balneari attive nel nostro territorio per un totale di circa 1500 addetti L'obiettivo è soprattutto quello di preservare il lavoro chiedendo al governo di riconfermare le attuali concessioni o quantomeno di spostarne la scadenza di qualche anno alla luce di una discutibile sentenza del Consiglio di Stato noi vogliamo che una risorsa fondamentale della nostra economia trovi una garanzia di continuità e la tutela dei lavori, degli investimenti, delle attività e anche dell'occupazione che tutto ciò rappresenta non ci possono essere norme vessatorie che mettano in discussione la continuità e il valore delle imprese balneari che sono fondamentali per l'economia italiana e che quindi noi tuteleremo nel dibattito parlamentare che si dovesse aprire e che stiamo seguendo nella trattativa in corso con il governo le imprese balneari hanno un valore fondamentale le concessioni vanno consolidate la continuità delle aziende deve essere garantita Forza Italia ritiene questo strategico soprattutto in un momento così difficile per il Paese per garantire la prospettiva e il futuro del turismo italiano Noi vogliamo difendere le piccole attività per il lavoro, il lavoro e le imprese purtroppo la sentenza del Consiglio di Stato grida vendetta noi come gruppo regionale di Forza Italia abbiamo già presentato una mozione e la discuteremo credo nel prossimo Consiglio per fare in modo che possiamo naturalmente attivarci a livello nazionale ma anche a livello europeo perché questa è una battaglia di tutti ma è una battaglia che stiamo portando avanti da tempo dal 2006 quando è entrata per la prima volta la Volkestein non possiamo buttare via il lavoro fatto da queste imprese a carattere familiare da anni e anni Siamo propositivi perché adesso diciamo si è instaurato un colloquio con il governo tra associazione e governo ci aspettiamo che questa cosa ci porti ad un risultato positivo per difendere le nostre imprese Ed ora lo sport è stata una domenica senza partite per le maggiori squadre della provincia con match e campionati bloccati dai contagi da Covid-19 ci sono però alcune notizie che vi riportiamo in questo lunedì a cominciare dal doppio orgoglio per l'Ital Service che vede il suo calciatore Cristian Borruto tra i 10 candidati alla vittoria del Best Men's Player in the World ovvero una sorta di pallone d'oro del calcio a 5 e allo stesso modo l'allenatore Fulvio Colini è tra i 10 candidati alla vittoria del Best Men's Club Coach in the World l'analogo riconoscimento riservato al miglior tecnico al mondo Parliamo anche della Vispesero che ha tesserato il difensore classe 2001 Notteo Fabio Parrinello il giocatore proviene dalla Pro Sesto e rappresenta un innesto di prospettiva col quale la Vis ha firmato un contratto fino a giugno 2024 e si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che come ogni lunedì vede l'appuntamento fisso con Check Up Obiettivo Salute questo nostro format è realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center che ci porta alla scoperta delle tematiche della salute in questo caso parleremo della sedentarietà e obesità negli adolescenti in Italia con il biologo nutrizionista Andrea Buccarini appuntamento dunque alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi altre repliche tutti i giorni come potete vedere in grafica e vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV uno strumento che vi invitiamo a scaricare molto comodo per consultare notizie vedere la nostra programmazione o semplicemente per inviare delle segnalazioni alla nostra redazione ed è davvero tutto per questa sera ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi e vi auguro una buona serata